Easy Go Non sarà un maico e lo... 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 Non vuole rivedere una persona amata. Io... lo capisco. Non penso ci sia nulla di pericoloso. La speranza c'è che il tuo istitto. La speranza c'è. La speranza c'è. La speranza c'è. Wow! Fa caldo qui. Ma... questa è... neve? Cenere. Questa viene solo da incendi enormi. Bene. Questo dovrebbe essere il fuoco più grande di tutti, eh? Muspelai. L'antico regno della piappa. Tua madre te ne ha parlato? Non molto. Voglio dire... non ci sono molte storie ambientate nel fuoco. Tranne per i giganti di fuoco, credo. Ma... non penso parlino molto. È da tanto tempo che non si vedono. e...橋 sculpte... h menino... It's... è da tanto tempo che non si vedo. Grazie. 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 Grazie a tutti.